Sono Sandro Gagliardi, candidato indipendente nella lista della Lega e noi abbiamo fatto un patto federativo con la Lega che ci ha dato un'opportunità per poter competere a queste elezioni europee. Faccio parte di DM, sono nel direttivo come tesoriere e come cofondatore del partito e cerchiamo in questa opportunità di far valere i nostri diritti in ambito europeo. Quali sono gli obiettivi che vuole portare avanti? Gli obiettivi io penso, io vengo dal mondo dell'agricoltura perché sono imprenditore, tratto macchine olearie, vi faccio un esempio chiaro, il Nutriscore che è una legge europea che ci piove addosso senza che nessuno la possa contrastare, definisce l'olio extravergine d'olivo con una targhetta rossa. Pensate un po', questo che è stato sempre il principe della dieta mediterranea viene considerato un alimento quasi cancerogeno, quasi diciamo un alimento cattivo, quindi non possiamo tutelare i nostri prodotti se non abbiamo una presenza salda all'interno di quello che è l'Europa. Anche perché se no la Calabria è sempre più distante da tutto il resto dell'Europa ma anche dell'Italia? Sicuramente la Calabria che già è considerata periferia dell'Italia verrebbe considerata come periferia dell'Europa, quindi noi dobbiamo portare la Calabria al centro del Mediterraneo perché la sua posizione fa sì che questa è già il centro del Mediterraneo dove si può sviluppare di tutto. Calabria al centro del Mediterraneo Calabria al centro del Mediterraneo